E adesso cambiamo totalmente argomento cari amici mentre ritorniamo in diretta perché come dicevamo in apertura ormai siamo alla vigilia di una data storica una di quelle date che si cerchiano in rosso nella vita delle persone ma anche di coloro le quali in qualche maniera si ispirano alla vita di queste persone. Sto parlando di padre Pio da Pietrelcina perché il 16 giugno del 2002 ormai 22 anni fa io ero un bambino Stefano tu eri un po' più adulto però comunque è una data importantissima perché in una caldissima piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II mentre vediamo anche alcune immagini storiche di repertorio pronunciava quella fatidica formula che iscriveva nell'albo dei santi padre Pio da Pietrelcina. Noi questa mattina alla vigilia appunto di questo di quella giornata di questo anniversario così importante ne vogliamo parlare con te che ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno e bentrovato. Bentrovato a te caro Leo e bentrovati ai nostri telespettatori e do un saluto dall'altra parte dello studio anche a Maria Pia. Allora 22 anni, 22 anni Maria Pia poi chiediamo anche a te magari dov'eri il 16 giugno. Basta che non mi chiedi l'età ma tutto bene. No assolutamente, questo aggaffo non me la perdoneresti mai, ci mancherebbe assolutamente. No per carità, è solo la battuta. Dunque Stefano 22 anni allora sono passati da quel 16 giugno, mi ha molto colpito in una tua anche intervista al Corriere della Sera di qualche settimana fa il fatto che tu dicessi che padre Pio è più giovane che mai e dunque padre Pio continua a macinare come si suol dire. Allora in verità io continuo a notare la venuta a San Giovanni Rotondo di nuclei familiari di giovani, cioè di ragazzi che credo non superano i 30 anni con bambini al seguito e questa cosa la sto dicendo non soltanto al Corriere anche a testate televisive. Purtroppo non sono riuscito quando ho detto queste cose anche a documentare ma adesso appena vedo e capita spesso coppie di giovani cercando di non coglierli in volto però ecco questi nuclei con bambini al seguito li sto fotografando per avere poi la prova per documentarlo perché i nostri colleghi non ci credono che padre Pio continua a attrarre qui i giovani. Certo è una devozione ereditata ma uno non è scontato che i giovani coltivino una vita di fede alla stessa maniera come lo facevano i loro genitori e i loro nonni. Due non è neanche scontato che i giovani conoscono padre Pio evidentemente continua a colpire per loro è come una sorta di nonno buono che sta in cielo e speriamo un esempio positivo da imitare. Il 16 giugno 2002 tu dove eri? Allora io ho avuto la fortuna laicamente parlando o meglio il privilegio provvidenziale se vogliamo usare un linguaggio diverso sia alla beatificazione sia alla canonizzazione di essere con il festeggiato cioè non dove c'era la festa ma insieme al festeggiato. Io ero nella cripta dove era sepolto padre Pio in tutte e due le circostanze. Per il 16 giugno 2002 questo è stato un ulteriore vantaggio perché come dicevi giustamente tu è stata una giornata afosa tant'è che la distribuzione di acqua prevista in grande quantità in bottigliette che venivano date gratuitamente non fu sufficiente e addirittura si arrivò a refrigerare la folla con gli idranti e siccome il getto degli idranti non colpiva la zona dei celebranti ci furono due concelebranti che svennero un cardinale e un vescovo. Insomma sono anche dettagli che ci restituiscono poi il senso della giornata storica. E grazie a Dio Papa Giovanni Paolo II che non era certamente in grande forma dal punto di vista fisico come è evidente anche dal modo con cui pronunciò la formula di canonizzazione all'ombra di quella specie di palco che sovrasta all'altare in Piazza San Pietro riuscì a resistere a tutta la celebrazione. E in effetti proprio Giovanni Paolo II ora mi volevo un attimo dedicare perché se le immagini ci possono aiutare davvero in maniera stoica direi ma più che stoica insomma è stato davvero un atto di coraggio perché quella giornata è stata davvero straordinaria da tutti i punti di vista anche da quello climatico Papa Giovanni Paolo II ci ha tenuto ad essere presente dall'inizio alla fine non solo ovviamente per l'atto formale della pronuncia appunto della formula di canonizzazione ma anche poi lo ascolteremo poi tra qualche minuto per quella stupenda preghiera che ha voluto consegnarci su invito del ministro provinciale di allora Fra Paolo Cubino alla fine della sua omelia e poi sappiamo che tre anni dopo ci ha lasciato ovviamente Giovanni Paolo II. Sì, veramente si capisce come ha fatto uno sforzo fisico enorme in quel momento e si capisce anche come abbia voluto fortemente essere lui a portare a compimento attraverso la canonizzazione quel processo anche quello da lui fortemente voluto. Ricordo che il processo di Padre Pio è rimasto fermo per decenni e solo con il pontificato di Giovanni Paolo II si è sbloccato il nulla osta da parte della congregazione per la dottrina della fede che ha permesso poi alle congregazioni e alle cause dei santi di avviare il processo e poi lui premeva sulla congregazione dei santi affinché facessero presto pur rispettando tutte le norme perché ci teneva ad essere lui a beatificare prima e a canonizzare dopo Padre Pio. Poi il Signore ha voluto accontentarlo perché se non ci fosse stato fra fine gennaio e inizio di febbraio del 2000 l'evento, la guarigione prodigiosa di Matteo Pio Colella certamente il desiderio di Giovanni Paolo II non si sarebbe realizzato. Facciamolo camminare questo Padre Pio disse, giusto? Lo disse al Ministro Generale dell'Epoca dei Cappuccini nell'87, Padre Flavio Roberto Carraro. Maria Pia, ecco io ho subito un aggiornamento che riguarda il tema di cui abbiamo parlato fino a poco fa cioè l'intelligenza artificiale ed è un ottimo aggiornamento. Il gigante dei social media meta che come sapete noi vediamo sempre quando usiamo Whatsapp ha deciso di rinviare il lancio del suo nuovo software di intelligenza artificiale in Europa a seguito delle preoccupazioni delle agenzie di protezione dati. Dunque, adesso al di là poi degli altri dettagli, l'essenziale direi che è molto rilevante proprio anche in relazione a quello che ha detto Papa Francesco. Ma io ho una domanda per Stefano, naturalmente come va con gli studi della posizio o di cos'altro? Cosa ci stai cucinando per scoprire meglio Padre Pio? E' in cottura un nuovo libro che è la biografia di Guglielmo Sanguinetti colui che è stato da più parti definito il braccio destro di Padre Pio nella realizzazione di Casa Sollievo che uscirà in quest'anno in cui ricorrono tre importanti anniversari. Il primo, 20 gennaio, 130 anni dalla nascita di Sanguinetti. Il secondo, 26 luglio prossimo, 70 anni dall'inizio del sollievo della sofferenza, cioè dall'inizio dell'attività ambulatoriale dell'ospedale che precedette di due anni il ricovero, quindi la cura in regime di degenza. E 70 anni, il prossimo 6 settembre, dalla morte di Sanguinetti. Quindi per questo triplice, diciamo, per questi tre anniversari pieni probabilmente per settembre uscirà questa biografia. Bene Stefano, allora abbiamo voluto ricordare alcuni passaggi salienti di quella giornata storica, 16 giugno 2002. Io ti ringrazio per averci aiutato in questo senso. E ora, prima di lasciare la linea alla pubblicità, vogliamo ascoltare, vi chiediamo di fare, magari alzando anche un po' il volume del televisore, perché vogliamo farvi ascoltare dalla viva voce di Giovanni Paolo II, la preghiera che ha pronunciato alla fine dell'Omelia, della messa di canonizzazione, una preghiera straordinaria che ha voluto dedicare proprio a San Pio da Pietrelcina. Grazie Stefano. Grazie a voi. Ascoltiamo Giovanni Paolo II e poi pubblicità. Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo ai quali il Padre ha promesso di liberare i misteri del suo regno. aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che lo domandiamo. O tienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei poveri e nei sofferenzi il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora e nel compasimento della prova. e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento, del perdono. trasmettici la tua sentenza e la devozione verso Maria, Madre di Gesù e i nostri. Accompagnici nel peregrinaggio in terreno verso la patria beata dove speriamo di aggiungere anche noi per contemplare in eterna la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sì, ha lo scato, Gesù Cristo. Sì, ha lo scato, Gesù Cristo. Sì, ha lo scato.